Aveva tentato di rapinare il gestore di una pompa di benzina nella zona del centro di Trapani. L'uomo tratto in arresto lo scorso 30 maggio dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'autore del fatto, un quarantenne di origini trapanesi, lo scorso 15 febbraio, dopo aver minacciato e ferito lievemente l'esercente con un coltello, aveva cercato di sottrargli l'incasso senza però riuscirvi. In seguito si era dileguato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Polizia di Stato, sulla base della descrizione della vittima, nei giorni successivi lo avevano individuato e dopo averlo condotto in ufficio, dove avevano eseguito alcune comparazioni sulle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, delle zone limitrofe che ritraevano l'indagato con particolari indumenti, avevano proceduto al sequestro del vestiario. Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il PM ha poi formulato la richiesta di misura cautelare concessa dal GIP che ha disposto per l'uomo la custodia in carcere, dove gli agenti lo hanno accompagnato al termine delle incombenze.